Chiedo alla gente di svegliarsi. I nostri figli vengono iper-sessualizzati, confusi e spinti verso questa ideologia. I bambini non possono guidare un'auto, comprare sigarette, votare, fare i soldati, farsi un tatuaggio. Perché possono autodiagnosticarsi e scegliere il proprio trattamento? Alcuni di questi bambini non vengono nemmeno visitati di persona e ricevono la terapia ormonale al primo appuntamento. Vengono castrati chimicamente. Questo è crudele. È un abuso sui minori. Benvenuti a Bay Area Innovators da Steve Ispas. Oggi la nostra ospite è Yvette Corcoran, infermiera professionista di San Francisco da 25 anni, che denuncia con forza i danni dell'ideologia gender sui bambini. Yvette, benvenuta. Grazie mille per l'invito. È un onore essere qui. È un piacere. Parliamo dell'ideologia transgender e delle questioni transgender. È una questione importante, che sembra quasi esplosa in California da un giorno all'altro. Operazioni di riaffermazione del sesso, bloccanti ormonali, eccetera. Si tratta di un business da un miliardo novecento milioni di dollari, solo per le operazioni sessuali dell'ultimo anno. Ed è in crescita dell'undici per cento, come minimo. Perché? Credo che ci siano diverse ragioni. Una è che viene insegnato nelle scuole. Di fatto viene praticamente imposto a tutti nelle scuole e sul posto di lavoro, a partire dai pronomi. Tutti sono obbligati a usare i pronomi. Poi penso che sia dovuto al nostro governo e anche al settore medico, perché quando si iniziano a manipolare gli ormoni, che siano i bloccanti ormonali, la terapia di sostituzione ormonale, o gli interventi, ogni bambino vale un milione e mezzo di dollari. Questo è dovuto alla durata del programma di cui hanno bisogno dopo la transizione? Beh, le ragioni sono molteplici. Una volta che si inizia a manipolare gli ormoni, si è dipendenti a vita dai farmaci. Poi, quando si eseguono gli interventi sperimentali di riassegnazione del sesso, si scopre che molti di questi pazienti hanno delle complicazioni e le compagnie assicurative contribuiscono ad assistere questi individui confusi nel percorso di manipolazione del loro corpo. Una volta che si sottopongono all'intervento e hanno delle complicazioni, però, le compagnie assicurative non assistono più questi pazienti, che allora devono pagare di tasca propria. C'è molto sostegno per fargli fare la transizione. Ma poco o nessun sostegno, una volta che si rendono conto di aver commesso un errore e vogliono tornare indietro. Che ruolo hanno le politiche governative in questo contesto, secondo lei? Significativo. Ho molto apprezzato un articolo di Epoch Times del 6 novembre 2023 scritto da Jackson Elliott. Gli Stati Uniti hanno speso 4 miliardi e 100 milioni per l'iniziativa LGBT. Io sostengo al 100% le nostre lesbiche, i nostri gay e i nostri transgender adulti. Tutti meritano amore. Tutti meritano di essere chi vogliono essere. Ma insegnare questo nelle scuole, a partire dai più piccoli, dall'asilo nido, dalla scuola materna, fino alle scuole superiori e all'università, danneggia i nostri figli. Li confonde. Non avevamo questo problema dieci anni fa, ma ora ce l'abbiamo. Credo che dal 2012 al 2023 sia aumentato di circa il 5.000%. Quanto alle politiche, quello che mi ha scioccato di più in quell'articolo è stato che la valorizzazione nazionale delle discipline umanistiche sta traducendo in spagnolo l'homosaurus, che è un dizionario di sinonimi e contrarie di termini LGBT. L'homosaurus differenzia i termini sessuali, come sesso anonimo, film porno romantici, sessualità infantile, bambini gay, ma soprattutto riclassifica i feticismi. Parole come, non riesco nemmeno a dirle correttamente, gerontofilia, efebofilia, ed ebefilia, termini greci che significano attrazione sessuale per gli anziani, attrazione sessuale per i ragazzi dai 15 ai 19 anni, e attrazione sessuale per i bambini dagli 11 ai 14 anni. Quindi il nostro governo sta spendendo 350.000 dollari solo per questo programma di normalizzazione della pedofilia, per prendere la pedofilia e suddividerla in termini diversi per diverse fasce di età. Perché? Non so. La pedofilia è pedofilia. Forse perché vogliono prevedere pene diverse per fasce d'età diverse per la pedofilia? Non lo so, ma l'ho trovato spaventoso. Mi fa piacere che ne abbia parlato. Ci sono molte persone che sanno di queste cose, ma non vogliono ascoltare perché sono troppo inquietanti e preferiscono non vederle. Quanto alla normalizzazione della pedofilia, ad esempio, in California ci sono 16 disegni di legge che riguardano i nostri bambini e le nostre famiglie. Il senatore Scott Wiener è l'autore di una legge che permette ai pedofili di avere rapporti sessuali con i minori e di non fare rapporto al registro dei reati sessuali, a condizione che la fascia d'età sia entro i 10 anni. Quindi si tratta di individui attratti sessualmente da bambini minorenni. In pratica, un 22enne potrebbe fare sesso con un 12enne e la penna è stata ridotta al minimo e ora non è necessario metterli sul registro. Questo è solo un esempio di normalizzazione della pedofilia. Un altro studio mostra come negli adulti sopra i 50 anni ci sia uno 0,3% di transgender. Tra i 30 e i 49 anni l'1,6%, tra i 18 e i 30 anni il 5%. Quindi c'è un enorme aumento della percentuale tra i giovani. Temo che questi numeri aumenteranno adesso perché 50 anni, quando andavano a scuola, non erano obbligati a seguire questo programma. Non c'erano le piattaforme dei social media che stanno contribuendo a insegnare e incoraggiare questo. Credo ci siano ragioni molteplici. Il materiale nelle scuole. Sappiamo che i nostri figli hanno bisogno di educazione sessuale e devono imparare a conoscere il sistema riproduttivo. Io ho 50 anni. Ai miei tempi si parlava dell'apparato riproduttivo e poi si andava avanti. Ma ora non si parla solo dell'apparato riproduttivo. Nelle scuole ci sono libri che insegnano ai bambini gli atti sessuali. Atti sessuali con se stessi, con gli altri, con gli oggetti. E questo succede a scuola. È semplicemente orribile. I nostri figli vengono iper-sessualizzati, confusi e poi spinti verso questa ideologia. Quindi credo che questo numero sia destinato ad aumentare rapidamente e in modo significativo. Il fatto inquietante è il denaro dei contribuenti speso per insegnare questa roba, per incoraggiare questi atti. Parliamo della legge della California che limita la capacità dei genitori di affrontare questi problemi. Un'altra legge di Scott Wiener. La SB 956 avrebbe reso reato penale il fatto che i genitori californiani, alle riunioni del Consiglio Scolastico, esprimessero disaccordo con l'amministrazione scolastica. Questa proposta di legge prevedeva l'arresto per i genitori, fino a un anno di reclusione e multa da 500 a 1000 dollari. Questa legge, grazie al cielo, è stata bloccata dal veto di Gavin Newsom. Comunque vediamo questo assalto nelle nostre scuole, mirato a insegnare ai nostri bambini cose che non dovrebbero imparare lì. Sono i genitori che devono parlare loro di queste cose, non le scuole. E quando i genitori dicono che non vogliono che nelle loro scuole si parli di questo con i soldi pubblici, vengono linciati, incarcerati, multati. È davvero scandaloso. Si è andati troppo oltre. Lei si è anche espressa in merito agli atleti maschi che gareggiano in sport femminili. Io non mi oppongo quando i nostri figli piccoli giocano a softball o a calcio e praticano sport misti. Va benissimo. Ma quando i bambini diventano un po' più grandi, chi è biologicamente nato come ragazzo ha più testosterone e più forza delle ragazze. Quando gareggiano contro ragazze e donne, queste ultime possono farsi molto male. Oltre a perdere le borse di studio universitarie, ci sono donne e ragazze che hanno gareggiato e si sono allenate per tutta la vita e in un attimo si vedono togliere tutto. perché uno che è nato biologicamente maschio decide di dichiararsi ragazza e gareggia contro di loro. La figlia di una mia amica è una lottatrice a livello universitario. se dovesse gareggiare contro un ragazzo potrebbe rompersi il collo, potrebbe rimanere paralizzata o morire. È inaccettabile. Dobbiamo uniformare i campi di gioco, i ragazzi negli sport maschili e le ragazze in quelle femminili. E se vogliono creare delle altre classi, come da maschio a femmina o viceversa, benissimo, che facciano pure. Ora vorrei parlare di soluzioni. So che lei è stata coinvolta in diverse richieste di destituzione di politici. La più importante è stata quella del procuratore di San Francisco, Cesa Budin. E poi tre... Membri del consiglio scolastico. Esatto, che sono stati rimossi grazie anche al suo contributo. Uno non ha avuto successo ed è stata la revoca dell'incarico al governatore, dove lei ha svolto un ruolo importante. Quali pensa siano le soluzioni? Ci sono molte soluzioni. La prima è che la gente deve smettere di avere paura. Devono essere consapevoli di ciò che sta accadendo, guardare un po' più in là della televisione, perché i nostri media non forniscono tutte le vere informazioni. Quindi impegnatevi nella vostra comunità. Fate volontariato. Unitevi a gruppi. Diventate attivi. Questa è una soluzione. Poi stiamo per raccogliere le firme, per portarle sulla scheda elettorale di novembre, per sport separati per sesso, nessun bloccante ormonale, ormoni né chirurgia intersessuale sui bambini, e nessun segreto con i genitori. Perché molte di queste cure per l'affermazione del genere vengono fornite nelle scuole all'insaputa dei genitori. Bill e Sally ha proposto un disegno di legge, AB 1314, che avrebbe imposto alle scuole di informare i genitori entro tre giorni, se il bambino si identificava in un genere diverso da quello in cui è nato. La commissione ha bocciato la proposta di legge. Quindi queste scuole vogliono mantenere il segreto, il che è orribile. Se un bambino è stato ammolestato o violentato, la scuola mantiene il segreto? No. Almeno spero. Allora perché tutti questi segreti? Per quanto riguarda le altre cose che farò personalmente per contribuire a cambiamenti positivi, ho qui 16 proposte di legge promosse dal senatore Scott Wiener che danneggiano i nostri bambini e le nostre famiglie. E in questo momento ho deciso di candidarmi al Senato dello Stato contro Scott Wiener per fermare tutto questo e per sostenere le nostre famiglie e i nostri figli. Faccio un esempio per quanto riguarda la disforia e la confusione di genere. Io sono un'infermiera professionista e ho lavorato a 19 anni alla Kaiser Permanent di San Francisco che è stato uno dei primissimi centri di chirurgia per il cambio di sesso in California. quando lavoravo lì gli uomini e le donne che volevano procedere con la riassegnazione del sesso dovevano passare dal mio reparto prima di poter procedere con gli interventi chirurgici e io li curavo. Con molti di loro ho lavorato per dei mesi fino a un anno mentre si preparavano per il loro percorso. E quello che so parlo di circa sette o otto anni fa è che a questi adulti era richiesto di sottoporsi a valutazioni psicologiche rigorose. dovevano travestirsi per un anno prima di poter ricevere i bloccanti ormonali la terapia di sostituzione ormonale o di essere presi in considerazione per l'intervento chirurgico. Ora le cose sono cambiate. La comunità medica non solo ha abbandonato quel protocollo ma ha anche abbassato il limite di età e ora offrono questi interventi ai bambini. I bambini non possono guidare un'auto comprare sigarette votare fare i soldati farsi un tatuaggio perché possono autodiagnosticarsi e scegliere il proprio trattamento? Alcuni di questi bambini non vengono nemmeno visitati di persona e ricevono la terapia ormonale al primo appuntamento vengono castrati chimicamente questo è crudele è un abuso sui minori è la cosa più meschina che si possa dire a un bambino vorrei fare un paragone o un esempio diverso se un bambino soffre di anoressia o bulimia e i genitori lo portano in una struttura o da un terapeuta per aiutarlo ad affrontare l'anoressia nessuno dice che il corpo del bambino non è giusto o che ha una fobia e questi bambini pensano di essere grossi grassi mentre in realtà sono pelle e ossa non è che il dottore dice loro che sono grassi e da loro pillole dietetiche o li mette in lista per la sala operatoria per un vendaggio gastrico si tratta di curare la loro disforia e non smettono di trattare la disforia si spera fino a quando non ne saranno usciti la prego di approfondire quindi c'è qualcuno che soffre di anoressia o bulimia giusto e come vengono trattati beh non so i dettagli ma sappiamo che vengono sottoposti a terapia ci sono strutture che aiutano ad affrontare la loro disforia dell'immagine corporea e questo non accade nel mondo transgender nel mondo dei confusi di genere no li incoraggiano e al primo appuntamento danno loro dei farmaci per farli continuare su questa strada questo è crudele è criminale dobbiamo assolutamente rallentare questo processo vorrei che potessimo tornare ai protocolli che avevamo prima serve una terapia adeguata dovrebbero essere tenuti a vivere in quel ruolo per un po' prima della somministrazione dei farmaci per la castrazione medica non so se mi spiego vengono castrati chimicamente questi ragazzi confusi di genere diventano ragazze dopo circa quattro mesi di assunzione di questi bloccanti ormonali ormoni intersessuali diventano sterili per sempre insomma è irreversibile sì irreversibile i trattamenti sono irreversibili e la decisione viene presa in giovane età e senza pensarci molto non esiste un test diagnostico per valutare se qualcuno è nato biologicamente nel corpo sbagliato il DSM dice che questa è una disforia ed è tipicamente temporanea e se questi bambini che hanno questa disforia fossero lasciati soli non venissero sottoposti a terapia ormonale ormoni intersessuali interventi chirurgici se venissero lasciati soli a superare la pubertà l'88% di loro diventerebbe a suo agio nel suo corpo naturale ma al momento abbiamo una ragazza su quattro che si identifica come maschio se ricevono questi farmaci questi ormoni e un intervento chirurgico al primo appuntamento non avranno mai la possibilità di capirlo da sole quindi io imploro le persone di svegliarsi e se proprio devono farlo trattiamola come viene trattata l'anoressia non vengono date pillole dietetiche un bypass o un bendaggio gastrico a questi bambini che soffrono di anoressia o bulimia dovremmo mantenere lo stesso standard per questi bambini che sono confusi e che vengono confusi nelle scuole e credo anche attraverso i social media grazie mille per la spiegazione ora ci parli un po' della sua storia lei ha lavorato per 25 anni poi ha perso il lavoro come è successo? allora io sono un'infermiera professionista l'ho fatto per 25 anni all'inizio del covid ho contratto l'influenza era la prima settimana in cui c'è stato il lockdown in California credo fosse il 15 marzo 2020 in quel periodo era molto restrittivo fare i tamponi così mi sono curata da sola siamo rimasti in lockdown per tre mesi nessuno lavorava poi siamo tornati a lavorare e più tardi sono state introdotte le vaccinazioni mi è stato richiesto o sono stata incoraggiata a vaccinarmi sapevo di avere già avuto il virus facevo il test degli anticorpi ogni tre mesi e ho avuto la conferma da un test della Kaiser non mi sentivo a mio agio nel fare una vaccinazione sperimentale per la quale avevo già gli anticorpi e dalla quale ero guarita così sono stata licenziata e non ho lavorato per circa un anno è stata licenziata perché non ha voluto l'iniezione sono stata licenziata perché non ho seguito il piano delle chiusure covid così sono diventata molto attiva credo anche politicamente e uno dei gruppi a cui mi sono unita e per il quale ho fatto volontariato è la tutela della salute dei bambini il gruppo di Bobby Kennedy Junior ho fatto volontariato con loro in California per quasi tre anni un gruppo straordinario Robert Kennedy Junior straordinario tante persone coraggiose che contribuiscono a renderci consapevoli e a portare la verità alla nazione e al mondo quante persone nella zona in cui vive a San Francisco si identificano con le cose in cui lei crede e che sta facendo direi che sono una minoranza a San Francisco devo dire però che non ho mai incontrato un numero così elevato di democratici e di persone di sinistra che si stanno svegliando a questi problemi stanno vedendo che le loro libertà e i loro diritti civili sono stati rimossi e anche i repubblicani a San Francisco molti però sono stati condiscendenti e credo che alcuni ci credano davvero e va bene così non discuto la loro convinzione ma molti si sono pentiti di aver chinato il capo o dei 14 richiami questa è la vostra scelta fate pure quello che volete ma io non voglio che le loro paure e le loro scelte mi vengano imposte Yvette grazie mille per il suo tempo grazie a voi di cuore